L'albergo villaggio olistico Fonte Maia Nasce dall'esigenza di un benessere autentico La parola olistico viene dal greco holos Che significa tutto, insieme Ed è proprio l'esperienza che viene fatta all'interno di questo villaggio Che ci porta ad avere un'interezza dell'essere Lavoriamo sulla parte fisica, sulla parte energetica Lavoriamo sulla parte psichica o mentale Per cui si cerca di arrivare ad un obiettivo Che è quello di capire cosa abbiamo dentro noi stessi Di comprendere ciò che vogliamo e ciò che siamo E di mantenere o di recuperare quell'equilibrio fisico e interiore Situato a Sarteano, fra la Val d'Orce e la Val di Chiana Due passi da cittadine di importanza storica artistica Fonte Maia vi offre un soggiorno in completa armonia con la natura Trattamenti di benessere globale e cucina salutistica Una splendida opportunità di crescita Per chi crede che la vita non sia solo materialità e condizionamenti La struttura è stata costruita con materiali naturali Come legno, travertino, bambù Che sono gli stessi materiali della natura circostante I giardini sono impreziositi da bellissimi monoliti orientali e pietre arenarie Che fanno da cornice allo splendido panorama della campagna toscana È stata interamente costruita con i criteri dell'energia pulita Di risparmio energetico Tutto ciò è studiato accuratamente per dare la possibilità al corpo di depurarsi Le camere sono caratterizzate da ampi spazi privi di divisori Accuratamente studiati con i criteri del Feng Shui, antica arte giapponese Per poter godere dei flussi energetici Garantendo così un ottimo recupero psicofisico durante il sonno Gli arredi sono tutti di legno naturale E i letti appoggiati a terra con tatame e futon Garantiscono un ripristino energetico durante il sonno Finemente arredato con mobili tibetani e dipinti murali Il ristorante propone un'offerta molto varia di pietanze Il menù vegetariano è senz'altro il più adatto ad integrare il percorso di benessere Per chi non vuole abbandonare il piacere della cucina tradizionale Fonte Maia garantisce prodotti naturali e di filiera corta Il centro distico, a differenza di un centro benessere tradizionale Oltre ad offrire relax Cerca di arrivare all'obiettivo di stimolazione della capacità vitale della persona Attraverso vari trattamenti di filosofia iurvedica, di bioenergetica E sono tutti trattamenti mirati e personalizzati al caso specifico Non vengono utilizzati prodotti già formulati Ma utilizziamo tutte materie prime Che poi assembliamo in base alle esigenze della persona Il percorso all'interno del centro listico inizia con l'indagine energetica Attraverso la quale vengono evidenziati blocchi energetici Che condizionano lo stato di benessere La persona diviene consapevole dei propri disequilibri Avendo così un ruolo attivo nella risoluzione dei conflitti Da questo primo incontro viene formulato il piano dei trattamenti personalizzati Seguiranno consigli per mantenere anche a casa propria Il lavoro iniziato al centro Divenendo così terapeuti di se stessi Tutti i trattamenti del centro listico e di naturopatia Sono volti al raggiungimento di un benessere psicofisico Ed un percorso di crescita interiore Le pratiche listiche sono molte Massaggi, trattamenti corpo, trattamenti energetici, idroterapia, nutrizione, fitoterapia E si servono di prodotti naturali come argille, vapori, oli essenziali, prodotti erboristici e fitoterapici Molto importanti gli incontri collettivi di meditazione, centratura e yoga Oltre ad un percorso individuale All'interno del centro troverete anche un percorso collettivo Con vasca salina, grotta di vapore, piscina fitoterapica, area cromoterapica e la fonte Maya Tutti trattamenti studiati appositamente come integrazione al percorso individuale Di depurazione psicofisica e ripristino energetico All'interno dell'albergo villaggio olistico Fonte Maya C'è anche il centro studi Fonte Maya Dove svolgiamo seminari teorico-pratici e esperienziali Per la formazione di terapeuti olistici E per chiunque voglia intraprendere un cammino personale Tutta la filosofia di cui abbiamo parlato E tutti i lavori che vengono svolti all'interno del villaggio olistico Possono essere sintetizzati e racchiusi in una frase molto bella di Madre Teresa di Calcutta Diceva Non lasciate che qualcuno venga a voi e se ne vada senza essere felice Grazie a tutti Grazie a tutti